Papà Croc, sono Paolo Vedi se poi sopravvivi Ancora sopravvivi? Sì, questo sempre sarà Cosa adesso ti ho mostrato? Di angolo, leva di braccio No, in strategia come ti ho mostrato? Come passare da un movimento all'altro E poi tornare ancora una volta al suo movimento E poi se non va Terzo Dalino Ho visto che hai fatto così Prima posizione Stiamo Controllo di braccio Bene, controllo Non mi spingi Sì Io vado Sì L'apra Mi avvicino, chiudo Poi Per mettere il ginocchio destro sopra Io avvicino No Passo tutto solo Poi diciamo ci succede che tu scappi da qui Vedi Io Io non ti lascio Tu ti difendi e io di nuovo torno Lui neanche non pensa a queste cose Vedi? Se lui scappa di qua Sì E magari mi prendi Io vado a questo Ti alzo Io mi siedo bene Vedi? Non ti permetto libertà di movimento Sì 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 Chiudo Sì 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 Ora, quando tu sei... Quando tu sei... Quando tu sei... Quando tu sei... Tu sei... Top in top. Tu fai tutto quello qui va... Tu vuoi kimura. Vuoi tu paccamento. Vuoi levo di gometto di qua. Vuoi levo di gometto di qua. Vuoi levo di gometto di qua. Passi il soffocamento. Se lui passa di qua... Ancora un altro soffocamento. Se esci di qua... Tu puoi... Mettere la gamba. Mettere... Triangolo. Gamba destra andrà sotto la mia colla. E questa sarà qua. No, sì. Questa braccia sarà per prenderli. Sì, di qua arriverà la caviglia. Se tu prendi con il braccio... No, non è. Vai piano. Chiara, chiara, chiara. Chiara, chiara, chiara. Chiara, chiara, chiara. Aspetta, aspetta, aspetta. Non, non. Cosa devi fare adesso? Chiara, chiara, chiara. Oh. Quando, quando devi fare questo momento? Guarda. Non, qua. Aspetta. Qua, qua, qua. Sì, pronti adicina. Allora. Sì. Come devi passare con il ginocchio a destra? No, no, no. Ancora molto più al mio aspetto. No, no. Ancora più alto. Forza proprio... No, no, no. Proprio vicino al mio aspetto a destra. Tutto sinistra. Solo con il ginocchio a destra. Prima sfidi bene con destra. Adesso il tuo ginocchio forza su. No, no, no. Non devi pensare a passarvi. Devi pensare a fingere con il ginocchio il mio suo modo, il cuore. Ah, sei, quello è difficile. Oh, vai, vai, vai. Aspetta. Ah, il ginocchio per passare. Passa il ginocchio. No, vieni. Molto colpa. Non è difficile. Adesso capirai. Guarda. Io ti devo traumare. Guarda. Infine. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Ok, 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 ok. Hai capito? Siiii. Hai capito! Hai capito? Ho poto così, vara, sao qui. L'ho? Uhhh.